Sarà l'area verde di via Barbella a Pescara ad accogliere i parcheggi estivi mancanti a seguito dei lavori di riqualificazione del lungomare sud di Pescara. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale che risponde così alle critiche mosse dal centrodestra anche all'interno del consiglio comunale rispetto alla perdita degli stalli auto che avrebbe messo in crisi le attività balneari presenti nella zona dell'auditorium flaiano. I lavori appena partiti termineranno tra 120 giorni ma saranno sospesi nella parte della riviera prima dell'estate per consentire l'accesso agevole alle spiagge. Durante la bella stagione la ditta che ha vinto l'appalto si occuperà comunque della realizzazione della nuova piazza antistante ai teatri lasciando operativi gli stalli sul lungomare Cristoforo Colombo nella via che conduce a via figlia di Iorio. Al termine dei lavori sul lungomare riqualificato saranno 30 i parcheggi la restante parte solo per l'estate sarà assorbita dall'area verde dietro il parcheggio a servizio dei teatri. L'area verde di via Barbella è un'area di 5.100 metri quadri a 25 metri di stallo di sosta ad auto riusciamo a recuperare 190-200 macchine ma vogliamo dire anche una cosa alla città recuperiamo una zona dopo tantissimo tempo allargando la passeggiata facendo la pista ciclabile facendo una piazza di fronte al teatri ai teatri d'annunzio e flaiano una piazza molto bella che consentirà a questa zona di vivere anche l'inverno e non più soltanto l'estate e soprattutto la vera ragione di questo progetto faremo in modo che venga eliminata la strada che corre di fronte ai teatri soltanto a partire da settembre per permettere il parcheggio anche lì quest'estate e il ricongiungimento dell'area ex camping che aprì io come assessore nel 2008 con l'area verde che corre proprio di fronte ai teatri in modo che dalla riserva si possa arrivare tranquillamente al mare questo parcheggio non ha bisogno di grandi spese economiche è un parcheggio che ha bisogno soltanto di un decespugliamento delle canne che ci sono non verranno toccati gli alberi non ci saranno altre opere ed in questo parcheggio c'è già un ingresso molto comodo quindi per quest'estate sicuramente avrigerà e poi diciamo abbiamo bisogno invece di un lavoro più duraturo grazie 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 grazie